Si è chiuso con la conferenza Arrigo Frusta nella scrittura e nei film il ciclo di incontri con letture e proiezioni dedicati alle attività creative di uno dei personaggi simbolo della storia del cinema a Torino. Prosegue fino al 22 novembre nella Biblioteca della Regione la mostra Tempi Beati, organizzata da Consiglio regionale con il Museo Nazionale del Cinema e il Centro Studi Piemontesi a 50 anni dalla morte di Frusta, tra i primi e i più importanti sceneggiatori del muto italiano.